Che capolavoro! Un capolavoro di saldi da Riccardo Corredi. Grazie alla vostra fiducia sono diventato l'icona del benessere. Anche ad agosto, ultimi pezzi del materasso matrimoniale in memory a 199 euro. Affrettatevi, un capolavoro di saldi su tutto. Materassi, reti, letti, poltrone alzanti. Riccardo Corredi, di me ti puoi fidare. Che capolavoro! Questo mi garbanca a me. Capolavoro di saldi su materassi, reti, letti, poltrone alzanti. Pensate, materasso matrimoniale in memory. Ma italiano, io lavoro solo, qualità italiana, 199 euro. Aumentano da tutte le parti e noi manteniamo i prezzi sempre più bassi. Quindi vi aspettiamo. Voi non immaginate quante tipologie e qualità di letti esistono oggi. Quello che fa la differenza è un prodotto artigianale che non esiste quasi più, ma che da noi è ancora possibile trovare. Tutto questo con la garanzia e assistenza del nostro marchio. Ci sono tantissimi prodotti di importazione nei grandi magazzini e hanno un prezzo sicuramente allettante. Ma dopo poco tempo, purtroppo, danno molti problemi. Per questo vi invito a vedere i nostri letti. Robusti, unici e garantiti a vita. Li potrai personalizzare in tutte le misure, tessuti, colori e tipologia di letti tra fissi, motorizzati o contenitore. Vi aspetto! Il materasso ha un ruolo molto importante nella vita. Non accontentarti. Fatti consigliare dai nostri specialisti in negozio il miglior materasso per le tue esigenze. Il giusto materasso può migliorare diverse patologie, come appena notturne o dolori muscolari. Ma soprattutto ti sveglierai più riposato. Abbiamo una linea completa, a partire da 199 fino ad arrivare alla linea medica, con i vantaggi fiscali IVA al 4% e detrazione del 19% recuperando l'intero importo a fine anno. A richiesta realizziamo qualsiasi misura. Ti aspettiamo in negozio, perché lo sai, di noi ti puoi fidare. Riposare è importante di notte, ma anche di giorno. Vieni a provare le nostre poltrone relax ed anche alzanti. Tutte motorizzate con un semplice telecomando. Troverete tanti modelli per soddisfare ogni esigenza. Con i poggi a testa laterali, con lo schienale più imbottito per la zona lombare, con lo schienale più alto per la zona cervicale, anche con la seduta più o meno alta da terra. E infine potrai scegliere tra tantissimi tessuti e colori. Design e comfort per migliorare il relax quotidiano. Naturalmente tutte con la pediera alzante per migliorare la circolazione. Ma che capolavoro! A me piace alle volte anche scherzare, ma quando si parla di lavoro, la serietà assoluta. Qualità italiana da 44 anni. Quando dico materasso a 199, vedite nei miei negozi e lo trovate. Non come le pubblicità ingannevoli sotto prezzo. Vengano a casa e dieci volte aumentano. Attenzione alle truffe, attenzione ai millantatori. Andate nei punti vendita e guardate materassi, reti, letti e poltroni alzanti con i saldi. Ti aspetto! Non aspettare un giorno in più. Riccardo, Riccardo!